Ogni giorno nuovi esperimenti, esperimenti decisamente inquietanti nella costruzione di testi senza senso. Questo fantastico show che io vi propongo tutti i giorni alle 14.30 sul canale YouTube di Testi Senza Senso. Iscrivetevi, attivate la campanella che secondo me è una funzionalità sopravvalutata, però se volete potete farlo. Vediamo che cosa ci propone oggi con questo panorama marittimo molto bello, tardi in leggere ognuna il. Non ci piace, non ci piace, non ci piace. Prima dentro le. Cavolfiore ozioso anche. Ma il cavolfiore ozioso con qua una nuova parola tipo quindi? Cavolfiore ozioso quindi? C'hai dei problemi? È ozioso allora? Ok, ce ne diamo il testo. Cavolfiore ozioso quindi? Cavolfiore ozioso quindi? Gli free climbing, tentare, domani urticante rosaccio, le sale affumicato a venire, tardi verde giallo. Indomabile rucola? La sbeffo potere fonologo? Cavolfiore ozioso quindi? Presto, ila ribrasi prima. Ma prendere dietro? Molte lui bei? Vabbè, tè verde terrorizzato AXA. Variegato simpatico bus, muto pesante a tendere usare. Dunque, 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 dunque. Cosa non mi piace? Molte cose, dire il vero. Randomizziamo e randomizziamo, anche qua, e generiamo di nuovo. Forte prevedere, no ammazzare oggi. Andare ciambella o durace. Vedi che gli arcaismi vincono sempre e il mio dito è sempre più mollo. Non riesco a tenere schiacciati i pulsanti, ho qualche problema. Normalmente oliva verde, forte diso soffiato dire, presto tempera lapis bere. Un'ottima bevanda, il tempera lapis. Perché bere una bibita qualsiasi. Cavolfiore ozioso quindi? Presto tempera lapis bere. Tempera lapis, sì. Sempre capire, poco cotechino tarocco. Cotechino tarocco, secondo me, non si può sentire, è immangiabile. Creare pompelmo, pensare, attaccare, baciare, guidare. Oggi, qualche volta a Zapote, ieri doga, ottenere caraffo. Guarda chi. Cambiamo lo sfondo, però. Qua abbiamo del cibo, che però non è cavolfiore. Mi sembra più del pollo. C'è della rucola. Abbiamo ancora la rucola. No, non c'è più la rucola, era nell'altro testo. Vabbè, niente. Cambiamo, 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 cambiamo. Cambiamo. Un campo. Cambiamo, cambiamo. Mettiamo, per esempio... Niente, l'unica roba cibereccia che mi è uscita è la prima foto. Adesso mai più. Sappiatelo. Vediamo, vediamo una... Dai, mettimi del cibo da qualche parte. Su. Ti chiama cavolfiore. Guarda qua. Non c'è ovviamente un cavolfiore, ma abbiamo questo sfondo con questo ricco tagliere di niente, perché ci sono tutte delle robe piccolissime. Vabbè, ce lo teniamo così. Il cavolfiore azioso, quindi. Scegliamo una base. Tipo questa. Ah, che bello. Mi sono sempre rifiutata di cantare. Forse l'ho provato una volta ed era una cosa talmente inascoltabile che poi ho desistito, ma questa volta lo faccio, quindi canterò su questa musichetta, sulla quale è praticamente impossibile cantare, se non la sai, io non me la ricordo, assolutamente, ma a noi. Ci interessa? No. Vado! Tavo il fiore ozioso, quindi. Tavo il fiore ozioso, quindi. Forte a prevedere oggi. Grandore, ciambella, vorace. Normalmente univa verde. Forte riso, soffiato, dire. Presto tempera, lapis bere. Cavo il fiore ozioso, quindi. Presto tempera, lapis bere. Cavo il fiore ozioso, quindi. Sempre capire. Un poco cotecchino. Troppo. Creare. Pompelo, pensare. Attaccare. Baciare. Guidare. Oggi qualche volta, zapote. Mieri doga, ottenere, caraffone. Oggi qualche volta, zapote. Ieri doga, ottenere, caraffone. Oggi. 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 Grazie a tutti